A sette anni e mezzo dal terremoto partono finalmente i lavori di consolidamento e restauro di Palazzo Margherita, storica sede del Consiglio Comunale e degli uffici del Sindaco. Già dopo alcuni mesi del post terremoto, sei milioni e mezzo furono messi a disposizione dalla BCC di Roma, un milione e mezzo, e dal sistema delle BCC italiane e a lungo è sembrato che il cantiere, uno dei più attesi del centro storico, potesse partire. Il credito governo italiano ha stanziato a suo tempo, sapete, i 5 milioni che sono oggi a disposizione per la ricostruzione di questo palazzo che è il cuore pulsante di questa città, quindi speriamo presto di vederlo ritornare ai vecchi fasti, diciamo, del passato. I lavori dei sottoservizi, ma ancora più la burocrazia italiana, hanno rallentato, secondo il Sindaco Gialente, l'avvio del cantiere, il cui costo complessivo è di circa 7 milioni di euro con fondi erogati nel 2010 anche dal decreto dell'allora commissario delegato alla ricostruzione. Il sistema paese è un sistema drammatico, il sistema paese, credo per qualsiasi opera pubblica, non so se succederà adesso rispetto al nuovo codice degli appalti, ma io credo che non si possa andare più avanti così. Servirebbero alcune norme, esempio la prima, non so, il ricorso al tar fatto incautamente per la sede, tanto ci provo, di pagare dei danni, comunque andare, perché così non possiamo andare avanti. Pensate alla biblioteca, solo adesso è stata la biblioteca qui ai quattro cantoni, il vecchio invito nazionale, solo adesso si è riuscito a dare incarico di progettazione. Se ci rendiamo conto, questo è un problema che io pongo a livello italiano. Pensate un attimo se l'agura fosse passata, il ragionamento di farlo attraverso grandi appalti pubblici, oggi noi staremmo probabilmente, non staremmo sicuramente qua, io non so dove stare ad abitare, né tantomeno so dire dove stareste ad abitare voi.